Con il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che sta trasformando la cittadina universitaria in un comune molto attivo, nel sociale, negli eventi e nel turismo. Sì, oggi appunto presentiamo una serie di iniziative che metteremo in campo nel mese di maggio, in particolare Fisciano Brain Camp e la festa dell'artigianato, che sono due iniziative che cercano di unire al di là degli eventi in sé uno sviluppo per i cittadini e per le industrie del territorio, cioè far incontrare domanda e offerta di lavoro, in modo tale da poter coinvolgere quanti più giovani possibili a lavorare non solo nelle imprese locali, ma anche in imprese e aziende di carattere internazionale come MSC o come ICHE. Mentre la festa dell'artigianato è per rivalutare le tradizioni del nostro territorio, che è una forte vocazione artigianale che parte dal rame, dal ferro, quindi far capire soprattutto ai ragazzi delle scuole che anche con l'artigianato si può avere un futuro importante, e quindi far conoscere le piccole botteghe che ancora oggi sono presenti sul nostro territorio. Quindi un discorso molto ampio che parte dal basso? Un discorso ampio che parte dal basso, noi vogliamo stare al fianco dei cittadini, quindi anche e soprattutto per loro abbiamo messo in campo questa serie di attività che permetteranno anche alle imprese di avere alcune defiscalizzazioni per quanto riguarda le assunzioni dei cittadini residenti nel comune di Fisciano sulle imposte comunali. Poi al comune di Fisciano con il consigliere delegato al turismo e agli eventi Nicola Prudente a cui voglio immediatamente chiedere Fisciano come metaturistica, è possibile? Beh, non pensiamo a Fisciano come metaturistica. Da quando abbiamo costituito il tavolo tecnico sul turismo ci siamo seduti e abbiamo pensato a cosa si potesse fare per il nostro territorio. Chiaramente non vogliamo metterci alla pari della costiera amalfitana o di Salerno, però pensiamo che il territorio ha molte peculiarità su cui puntare e poter perseguire quel turismo di nicchia che ci permette di aumentare l'attrattività del nostro territorio. Pensiamo ai beni culturali, con varie associazioni del territorio stiamo censendo tutti facendo un censimento di tutti i beni culturali, ne abbiamo censiti oltre 100. Vogliamo puntare sul turismo religioso con i siti di San Michele di Mezzo, insieme al Comune di Calvanico e il Comune di Solofra che hanno anche loro altri due siti. Stiamo cercando di far riconoscere un sentiero che unisce questi tre comuni anche con la partecipazione del Comitato Gioveni di Unesco. I prodotti delle no gastronomie e quindi le tipicità locali e soprattutto gli eventi stiamo spingendo molto. Ecco, a tal proposito volevo chiederti, turismo vuol dire motivo di richiamo e soprattutto appunto eventi. Cosa c'è in programma se c'è già qualcosa in programma? Sì, crediamo molto negli eventi come portatori di messaggi culturali e abbiamo in mente di spingere uno, due, tre eventi all'anno che nel tempo possano crescere. Quest'anno, dopo l'Irno Etno Folk Festival, abbiamo pensato a un nuovo format che potesse avere una ricaduta sociale e quindi questa volta inerente alle politiche del lavoro che è Fisciano Brain Camp insieme all'Università degli Studi di Salerno. Sarà un momento di incontro tra le imprese del territorio ma anche imprese importanti a carattere nazionale e alcune multinazionali che il 18 maggio incontreranno i giovani del territorio, i giovani studenti universitari con un vero e proprio job meeting e quindi colloqui di lavoro e possibilità di candidarsi presso queste imprese. Invece, i due giorni prima, vedremo la partecipazione del direttore di Radio Rai Foderaro e di Luca Dondoni della Stampa che incontreranno altri giovani che vogliono cimentarsi con il mondo delle radio, del giornalismo e dei media in genere. Il più bravo di questi avrà un'opportunità presso un network nazionale. Con Antonio Santoro, rappresentante dell'associazione Vivi Unisa che cura una serie di eventi che si svolgono presso l'Università degli Studi di Salerno. Qualcosa bolle in pentola, qualcosa al via, cosa dovemo aspettarci e come è cambiato rispetto agli altri anni? Beh, quest'anno Vivi Unisa di notte è cambiato. La manifestazione è arrivata alla sua ottava edizione. Siamo partiti per gioco, poi l'evento è diventato un punto di riferimento un po' per tutta la regione Campania ed è stato anche preso come modello da altre realtà universitarie nel nostro paese. Quest'anno cambiamo la formula, non siamo più una rassegna di eventi singoli ma un festival, tre giorni, 16, 17 e 18 maggio. Vivi Unisa di notte non è mai stata soltanto una festa o solamente un evento aggregativo ma abbiamo sempre legato alla manifestazione l'intenzione di propagandare dei messaggi dall'alto valore sociale, simbolico. Soltanto per citarne una, l'anno scorso abbiamo fatto una collaborazione per esempio con Amnesty International che è stata presente durante la nostra manifestazione. Gli scorsi anni abbiamo messo in palio delle borse di studio. Quest'anno abbiamo legato la nostra manifestazione a questo nuovo progetto il Fisciano Campus Experience e al Comune di Fisciano che per l'occasione ha organizzato questa manifestazione che si chiama Fisciano Brain Camp che mira soprattutto a permettere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione e speriamo che il nostro evento diventi sempre di più non solo un attrattore per tutti i giovani che hanno voglia di divertirsi e di stare insieme ma soprattutto possa diventare il veicolo per messaggi dall'alto contenuto sociale e soprattutto che possano contribuire allo sviluppo del territorio. Con Roberto Vargiù, ideatore e direttore di Davi Media che diventa? Diventa breve The Live Media. È una trasformazione quasi normale dopo tanti anni di successo di Davi Media che era più, anche se è stato un evento culturale, didattico, con performance si trasformerà in qualcosa di diverso, leggermente diverso anche perché va a coprire e va a raccogliersi con il comune di Fisciano che sarà partner primario di questa situazione con i ragazzi delle associazioni universitarie, soprattutto Vivi Unisa e con la nascita di un brand nuovo che sarà Fisciano Campus Experience. La tipologia della prossima edizione che non sarà più Davi Media sarà Davi Media, sarà come riprendere proprio il nome, molto più portato alla performance. Quindi gli artisti che saranno presenti in zona, quindi sia al comune di Fisciano che all'interno dell'università, ci sarà un salto di opportunità. Li vedremo molto più operare nel loro mondo che magari una volta privilegiavamo più gli incontri didattici però cercheremo di trovare un giusto equilibrio tra i grandi autori tra i grandi artisti e penso che possa essere anche questo un grande e importante successo. Quindi insomma è un progetto nuovo ma che comunque ripercorre tantissimo quello che abbiamo fatto in tutti questi ultimi anni. Lei ha parlato di artisti, possiamo avere già qualche anticipazione? C'è già qualche nome o bisogna attendere? No, adesso noi arriviamo da un'annata anche abbastanza lunga con Davi Media conclusa qualche giorno fa con Mario Biondi anche se ci saranno degli spin-off a breve che non possiamo ancora rivelare però tutto quanto la nuova edizione come sempre partirà da fine settembre del 2017 e come abbiamo detto in conferenza stampa sarà presentato il tutto la triennale di Milano quindi una bella occasione, l'occasione anche per ringraziare tutti quelli che ci sono vicini dalla Camera di Commercio di Saino con il suo patrocino istituzionale, il patrocino della Disu la collaborazione della Film Commission Campana di cui siamo onorati di questa new entry come brand e insomma e tante altre situazioni che ritroveremo nei prossimi mesi. Siamo qui con Nicola Ruggero, Assessore al Commercio e all'Industria dell'Artigianato a cui volevo chiedere che uno degli eventi presenti in cartellone in queste manifestazioni varate dal Comune di Fisciano è proprio la festa dell'Artigianato che è prevista dall'8 al 21 maggio ecco dove si svolgerà e cosa bisogna aspettarsi? La festa dell'Artigianato noi l'abbiamo voluta riprendere con forza quest'anno perché era stata per un periodo diciamo interrotta e quest'anno abbiamo dato un taglio con le scuole perché verranno portati i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie a conoscere le attività più importanti presenti sul nostro territorio con visite guidate presso le attività appunto presenti sul territorio del Comune e facendo capire loro l'importanza che hanno gli artigiani e che hanno avuto nel Comune di Fisciano perché noi siamo un Comune che vanta tradizioni storiche relativamente all'artigianato tradizioni relative all'arte del rame, scusatemi, c'erano i fabbri serraturari a Penta quindi noi con forza abbiamo voluto che si svolgesse di nuovo questa festa dell'artigianato e quindi far capire ai bambini l'importanza che ha l'artigianato nell'economia locale del Comune.